Ciao a tutti, faccio questo video per annunciarvi brevemente che giovedì 2 settembre alle 16.30 sul mio canale youtube Cicala Rock andrà in onda la prima puntata di una video rubrica dedicata alle canzoni di John Lennon, uno dei compositori di maggior successo di tutti i tempi. Nel corso delle puntate che andranno in onda ogni giovedì alle 16.30 andrò a reinterpretare in maniera molto personale le canzoni di Lennon, o meglio andrò a reinterpretare quelle che mi hanno maggiormente influenzato artisticamente e umanamente. La rubrica si chiama Cicala incontra Lennon proprio perché non si tratta di un semplice tributo, io non mi limiterò a suonare ma a commentare e a riflettere sui brani insieme con voi. Potete già adesso attivare il promemoria al primo episodio sul mio canale in modo tale da non dimenticare l'appuntamento, infatti vi arriverà una notifica il giorno stesso della messa in onda. Beh penso di avervi detto tutto, ci vediamo il 2 settembre, ciao!